ciao sto preparando una serie di video ben organizzati e finalizzati ad acquisire le principali tecniche di calcolo si parte dal calcolo numerico per passare a quello letterale quindi i radicali e varie tipologie di equazioni e disequazioni puoi trovare il link alla play lista in descrizione del video o nei commenti in questo video vediamo come sommare frazioni 2 più un quinto meno 8 dodicesimi se vuoi provare a farlo da solo metti in pausa tra un attimo vediamo lo svolgimento allora prima di procedere con somme e sottrazioni è sempre opportuno controllare se non vi siano frazioni da semplificare ed effettivamente 8 e 12 sono entrambi divisibili per 4 quindi dividiamo per 4 numeratore denominatore e otteniamo 2 terzi quindi si tratta di calcolare 2 più un quinto meno due terzi abbiamo come denominatore un 5 un 3 e quindi dobbiamo calcolare il minimo comune multiplo tra 5 e 3 che è 15 quindi usiamo 15 come denominatore comune si tratta in pratica di scrivere tutte le frazioni in quindicesimi 2 è equivalente a 30 quindicesimi perché 30 diviso 15 fa 2 un quinto equivalente a 3 quindicesimi perché abbiamo moltiplicato per 3 sia il numeratore sia il denominatore e meno due terzi è equivalente a meno 10 quindicesimi ora tutte le frazioni sono espresse in quindicesimi quindi basta sommare e sottrarre i numeratori e otteniamo 30 più 3 meno 10 che fa 23 e quindi abbiamo 23 quindicesimi solo una precisazione normalmente si passa da questa scrittura direttamente a questa saltando il passaggio intermedio ed effettivamente puoi anche fare benissimo così volevo soltanto sottolineare però che la somma di frazioni non è altro che la somma delle frazioni equivalenti aventi lo stesso denominatore e si sceglie come denominatore comune il minimo comune multiplo se hai capito questo se hai capito il concetto di frazioni equivalenti non dovrai più ricordare una procedura memoria per sommare frazioni ma ti verrà in modo semplice automatico per altri video come questo ti lascio la playlist di calcolo aritmetico e algebrico inoltre sul mio canale trovi tantissimi video di matematica e fisica se ti è piaciuto lascia un like iscriviti al canale ciao e grazie